La Gifoni Experience, Simona, con Sinaura, altri ospiti che raccontano appunto questo percorso che Aura, il sociale del Gifoni Film Festival, sta portando avanti da tempo quindi vi lasciamo al Tribun Show di questa mattina e diamo appuntamento a domani. A domani, buona continuazione. Bentrovati dalla sala conferente del Gifoni Experience, oggi vi parliamo di solidarietà perché Gifoni è il cogliere i propri atti e neanche solidarietà. Con me ci sono Alconcina Novellino, presidente di Aura. Ciao Alconcina. Buongiorno a tutti. Poi c'è Generoso Andrea, vicepresidente Aura. Bentrovato. E abbiamo il vicepresidente di Gifoni Experience, Gioacchino Ducini. Bentrovati tutti e tre. Partiamo da te Generoso. Oggi, questa sera, alla cappella Andrea del Giammino degli Aranci, ci terrà questa asta di beneficenza. Sì, stasera siamo insieme, ecco, in questa asta di beneficenza. Io vorrei però spendere qualche parola in più su un aspetto forse sottaciuto, poco conosciuto, che è dall'Associazione Aura. Ecco, il braccio sociale del festival, il festival sicuramente importante, sicuramente spettacolare, con migliaia di bambini che affollano Gifoni, però ecco, l'iniziativa di Aura, forse dovrebbe avere maggiore notorietà. A Forzino Novellino, la nostra presidente, da molti anni, organizza degli aspetti di sostegno, di solidarietà straordinari. Eccolo, posso dire, noi, ecco, insieme, sono tutti qua, il Straschat del Brasile, i ragazzi comuni, l'assistenza straordinaria ai piccoli malati della Bambina Gesù. E questa sera, ecco, in questo ambito, con queste iniziative, c'è questa asta di beneficenza di oggetti antichi, di piccoli oggetti antichi. C'è una varietà di oggetti anche di poco valore per dare la possibilità a tutti di questa partecipazione di solidarietà. Ecco, l'asta si terrà a favore di medici senza non dire. Ecco, abbiamo aperto un altro fondo di grande solidarietà. Speriamo che questa asta abbia grande successo. anche una curiosità, il banditone sarò io, perché sono noto come appassionato d'arte, una collezione, esporre manco un quadro di famiglia, ci sarà un regalo della famigliante che andrà all'asta, ci saranno tante novità che sarebbe davvero simpatico e anche produttivo poterli partecipare. Il presentatore, Torino Pinto, voce storica del Pettino, è padrone di casa in questa sala. Alton Sino, facciamo un passo indietro. Cresce Giffoni, ma cresce anche l'attività, il risultato di tati Aura di questi anni. Io intanto ringrazio di riconoscere a Torino e di ritenziare l'onorevole Andia. Adesso qui siamo in spazio. Ho uscito un ufficio al meglio di riconorevole, ma il mio amico ce n'è. Perché se Aura ha avuto, sono 11 anni, l'anno scorso abbiamo avuto un'opera, ma se è cresciuta e se ha potuto portare avanti tanti progetti, è grazie proprio alla famiglia di Andria. che mi fa parte di riconoscere, basta che è stato un problema che abbiamo avuto, anche perché noi viviamo con Aura si mantiene, con i 20 sogni, quindi con le vuote e i sogni che al momento aiutano. Ecco, diciamo che credono in me, mi hanno dato fiducia, e io di questo ne vado molto bene. E insieme facciamo un'opera. Io vorrei spiegare a parlarti del grande successo che abbiamo avuto, alla sesta, al sesto anno, che ne facciamo un'attività, e poi le parti da Parigi. Bene, lì ad accoglierci è stato il nuovo presidente, che è la dottoressa Maria Etaeno, dottoressa di Dami, Massimiliano Ramone, professore che mi ricordigeva, non è un urologo. Ma c'è stata una grande attesa, perché quest'anno ho voluto, e loro mi hanno concesso, di fare, di prendere due ospedali. Quindi abbiamo, contemporaneamente, ci fu un imparato dal San Paolo, che era curatore, dove erano presenti, città, quando erano ragazzi e bambini, e dal Gianniffolo, dove la Disney, come ogni anno, in questo momento, va alla Disney, ha lasciato tanto il film, il film Big Air 06, che in contemporanea, nel circuito interno, i ragazzi, che erano dettagli, hanno potuto ascoltare in questa regione. Di lì, invece, a San Paolo, è avvenuta la parte ufficiale, con Tonino Pinto, quindi abbiamo aperto, ufficialmente, il ciffone. In contemporanea, nelle sale, dove c'erano, ripeto, dei 4-500 ragazzi, abbiamo portato gli animali. Qui c'è stato il Magico Mondo delle Pelle di Sabone, hanno giocato con i bambini, si sono coinvolti. E poi, una novità, che io, la dico, la svelo solo adesso, esattamente due giorni prima, io sono stata chiamata dalla Disney Store, quindi abbiamo fatto un gruppo di otto ragazzi, che sono arrivati, professionisti, che hanno fatto disegnare, giocare sui bambini. È stata un'emozione. E qui abbiamo distribuito 3000 CD, film, selezionati dal gifone, al Gianicolo, questi al San Paolo, e all'altro ospedale, dove ci sono tutti i bambini in carrozzella. Ovviamente l'ospite, non è stato un ringraziamento, ecco, non mi viene il nome, Paolo Colvicini. Paolo Colvicini, Paolo Colvicini, che è stato l'anno scorso, e ricordo a Colcini, che lui venne l'ultimo giorno del festival, e già tu l'anno scorso, a luglio, gli chiedi, se poteva partecipare, ai tuoi eventi. questo per dire che c'è grande programmazione in quello che fate. È stato eccezionale, perché voi ragazzi, le mamme, è commovente, ragazzi, perché lì si vedono cose, che non vorremmo vedere, soprattutto quando i bambini soffrono, è una cosa brutta, però vi posso assicurare, che in quella giornata, abbiamo visto i genitori, i bambini, sorridere. Abbiamo delle foto, che sono bellissime, se andate sul sito, trovate delle cose eccezionali, in quella giornata. Poi, io ti anticipo un momento, perché sono vero, c'è un mondo fatto. Quest'anno, la dignità è anche, qui all'interno della cittadella, voi sapete che c'è, la cultura medico. Mi faccio il nostro grafico, perché sono sempre molto, molto cileri, nell'affrontare, quelle che sono le emergenze, nell'incontro precedente, ho parlato con i vigili del fuoco, questo è un tema simile, ovviamente con gravità diversa, però quando ci sono determinati eventi, è importante che ci sia, chi tenga, possa intervenire subito, a chi ha un viaggio di emergenza. Questa è, sicuramente una bella cosa, è generosa, ma in questo momento, così di crisi, c'è ancora spazio, per la solidarietà. Magari si fa meno, però si fa più col cuore. Può essere anche questo, il tema dell'asta di questa sera? Sì, esatto. Credo che aprirò in questo mondo, perché ci sarà un po' oggi, l'intervento della Presidente, di Torino Pinto, credo che, di un viaggio di questo intervento, volendo un po' rimarcare, che noi stiamo vivendo, purtroppo, un nuovo videoevo, e quindi alcune persone, quelle che saranno presenti, quelle che non sono presenti, ma si sono vicine, ecco, vogliono ribellarsi, a questo oscurantismo, che sta pervalendo, un po' il mondo, non bisogna giudersi, nell'egonismo, ecco, non avere un dialogo, non avere una partecipazione, e ovviamente, io traccio questa sera, tutti gli importanti, per non uscire da questo, periodo buio, uno è la grande passione, per l'arte, e l'altro è la solidarietà, e stasera, ecco, con quest'asta, a favore dei medici, esaffrontere, coniugiamo, coniugiamo, queste due, le mie principali, per uscire da un periodo, sicuramente il mondo, ecco, io dico, faccio un'osservazione, ma non è che l'abbiamo vissuto, è una cosa che, penso che possa avverarsi, ecco, la tecnologia, ecco, Facebook, WhatsApp, è quanto di più, avanzato possa esserci, non deve modificare, le tradizioni, la cultura, la storia, non si può tollerare, che un giovane, che visita un museo, una ragazza, quindicenne, ma il testaggino, tenendo alle spalle, la primavera del Boncene, o il Cristo, per il Cristo, del Caravaggio, è una cosa che, a me, deve perdere, la vita vissuta, la vita di noi, voglio ritorno alle origini, non è, non è questione, è proprio di ritorno all'origine, è di saper condugare, ecco, quello che è un avanzamento, tecnologico, a quello che è un aspetto, culturale, che non va mai modificato, dico, ultimo, in questo aspetto, ecco, qual è il mio sentimento, che spero di poterlo, anche trasmettere, noi abbiamo dovuto assistere, stiamo attestendo ancora, a questa ferocia, che ci viene, ovviamente, riprodotta, riproposta, dai giornali, che è l'esis, che è di capi, da persone, così, quotidianamente, ma anche, c'è un altro aspetto, che mi sono sentito male, che ho dovuto cambiare il programma, ecco, quando sono stati accredititi, dei beni culturali, millenari, in Iraq, sono stati distrutti, sei, quando Pamela, una delle città, che è patrimonio dell'Unice, tra le più belle del mondo, è stata abbattuta, da questa ferocia, e da questa violenza, ecco, se noi, riusciamo a uscire, da questa spirale, io credo, si chiama, il nuovo, il sede del rinascimento, beh, Aura c'è anche per questo, per lanciare messaggi positivi, ma soprattutto, cerca di essere una spada, di conforto, di un vino, un momento di sconforzo, ma è un momento, a me che si credo, che Aura, sconti, la prima, un'opera straordinaria, un'opera di solidarietà, e poi riesce, ecco, l'Alfonsina, la Presidente, a coprire, delle, dei luoghi, delle opportunità, delle necessità, in modo, anche, diverso, variegato, ecco, ogni anno, Alfonsina, propone qualcosa di interessante, qualcosa di veramente, solidale, lei è stata, a Roma, ecco, a Bambini Gesù, ripeto, queste presenze, un poco, qui, qualche modo, alla Emile, e mi trovo, che mi raccoglie, la Tristicholo, molto, però, ecco, più sbaglio, più sbaglio, perché non bisogna, cambiare canale, quando, vediamo, ecco, l'iniziativa, Save Children, Children, nel senso, che i bambini, abbandonati, bisognosi di tutto, invece, bisogna, avere il coraggio, la forza, di seguirli, e ovviamente, intervenire, come fa? Cogliere l'attimo, il Temo Festival, e, farlo diventare, postivo, e dobbiamo, effettivamente, se noi riusciamo, a recuperare, questo che è, un grande, sentimento, quello della solidarietà, che ovviamente, deve essere, io capisco, anche, ma ovviamente, è anche noto, la mia appartenenza, al campo economico, quindi, a conciliare, questi aspetti, con le esigenze economiche, economiche e finanziarie, non credo, sia molto facile, però, ecco, bisognerò, fare la giusta, linea piana, perché, io credo, che si possa, produrre utili, però, si può, allo stesso tempo, essere, molto solidari, solidali, e si può, assolutamente, sostenere, in sedi, straordinarie, come fa l'associazione, Aura. Aura, due appuntamenti, segnati in agenda, perché sono, entrambi, molto importanti, questa sera, alla Cappella Anglia, del Giardino degli Aranci, l'asta benefica, con, generose, feste, di battitore, non battitore, ma, per un'altra cosa, però, stavo, stavo, stavo quasi, cadendo di mia moglie, poi, ci sarà, il 24, al Consiglio, Loro di Muro, l'arco 20, San Francesco, Correzzo De Caro ed Angelica Sede è uno spettacolo bellissimo in una cornice stupenda ma io ho visto le trovi un po' emozionale grazie a questi amici perché poi me e Angelica sono gli amici che hanno accolto subito immediatamente l'invito perché mi sono riuscita a conto che era un qualcosa di delicato che andava bene per conto del nostro ambiente, del nostro festival è un loro di cuore è un omaggio al grande Roberto Scuolo ma soprattutto non solo è l'oro di tutti i grandi neapoletani che abbiamo avuto perché durante lo spettacolo si parlerà di Totò e quindi si parlerà la famosa canzone di Totò Troisi, io ho avuto da Miliani, Edoardo Di Giacomo, La Capria, Marotta De Curtis, fino a Sorrentino venite è qualcosa da non perdere beh io ringrazio Alfonsina Generoso e Zioacchino che mi si presenta del Giponi Experience per oggi è davvero tutto Per oggi è davvero tutto che mi si presenta per oggi è davvero tutto per oggi è davvero tutto in cui ci sono in cui si presenta e la stessa l'argomento ed è davvero tutto in cui si presenta